Un ettaro di terreno, un polmone verde a pochi passi dal centro storico che oggi non è però frequentabile. È il Giardino di San Giovanni, che a due anni dalla chiusura potrebbe riaprire. A spiegare la vicenda il professor Paolo Baldassarri, presidente del Conservatorio di San Giovanni, l'ente proprietario del giardino, che ha invitato il comune di Pistoia a discutere di come far spalancare nuovamente il cancello di via della Costituzione. La decisione, sofferta di bloccarne l'accesso, ci ha spiegato Baldassarri, è stata presa per il crescente degrado in cui l'area era finita, in particolare per lo spaccio di droga. È stata sofferta, è risentito anche questa sofferenza, più che altro l'ha avvertita anche il Consiglio d'amministrazione. Abbiamo discusso tanto di questo problema, del giardino. Ad occuparsi della manutenzione sarebbe dovuto essere il comune, ha spiegato ancora Baldassarri, con il quale il Conservatorio nel 92 firmò una convenzione. Un impegno che non sarebbe stato onorato appieno dal comune e che, essendo l'ente proprietario non in grado di sostenerla, in particolare per il taglio degli alberi e la sicurezza nel giardino, ha portato alla decisione di chiudere tutto. Nel 92 si è fatto il primo passo, si vorrebbe fare il secondo, cioè dare la possibilità a chi vuole di entrarci. Il comune non si chiede, tanto che faccia la prima cosa, tagliare l'erba, quindi potarlo tutto. Chiediamo che ogni tanto venga anche vigile a vedere, non vi è mai nessuno, ogni tanto a vedere, controllare, eccetera, perché noi non abbiamo controlli personali, capito? Ecco, queste cose noi chiediamo, non è poi una cosa, mi sembra un granché, però bisogna che il comune ci venga a conto. Ecco, speriamo che si vada avanti, la nostra speranza è anche questa, perché il chiuso giardino non serve a niente, voglio dire, la gente non ci può venire, invece deve essere aperto, è accessibile a tutti coloro e ritengono opportuno vederlo. È un bene della città di Pistoia, via! Grazie! Grazie! Grazie!